Insieme per la legalità. E' questo lo slogan scelto per la campagna contro il falso, la contraffazione e l'abusivismo, messa in campo dalla Prefettura di Crotone insieme alle Forze dell'Ordine, la Capitaneria di Porto, la Camera di Commercio, Confcommercio e le amministrazioni comunali del territorio pitagorico. Un'azione che tende, oltre che a combattere il malaffare, anche a sensibilizzare la comunità sui rischi che corra nel comprare prodotti contraffatti, ovvero rischi per la salute, incorrere in sanzioni e arrecare danni al mercato e all'occupazione. Ovviamente abbiamo svolto e continueremo a svolgere per tutta l'estate degli attentissimi servizi di controllo e di contrasto, però nello stesso tempo stiamo puntando molto anche sul tema della prevenzione. Abbiamo pensato di allestire un gazebo presso i lungomari dei comuni rivieraschi allo scopo di fornire ai cittadini quanta più informazione possibile. Acquistando prodotti contraffatti ci si rende complici di un sistema, di un sistema che si arricchisce a danno naturalmente delle imprese corrette e conseguentemente a danno anche degli stessi lavoratori di quelle imprese corrette. Giuseppe Laratta per l'AC News 24